Una nota dei rappresentanti di istituto dell'Ipsia Mazzei e dell'Istituto Industriale Fermi che hanno disertato la manifestazione organizzata dai sindacati oggi a Catania sulle problematiche scolastiche. Con l'arrivo dell'autunno e l'inizio del nuovo anno scolastico si legge nella nota, sapevamo benissimo che non sarebbero mancate le mobilitazioni studentesche e come voleva si dimostrare il sindacato rete degli studenti media indetto la mobilitazione nazionale studentesca, si scrive scuola, si legge futuro, alla quale noi studenti gerresi dell'Ipsia Majorana Sabin, dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura Mazzei e dell'Istituto Industriale Fermi non abbiamo partecipato, non per pigrizia, apatia o divergenze politiche, bensì perché riteniamo che un sindacato è un ente costituito per tutelare e garantire i diritti dei lavoratori e degli studenti e non per fare politica. A differenza della rete degli studenti medi che pur definendosi apartitico, a nostro avviso assume una chiara collocazione politica e poiché crediamo che gli scioperi e le manifestazioni studentesche siano forme di protesta estreme da utilizzare solo in situazioni di forte emergenza come la contestazione di atti governativi adottati a discapito del diritto allo studio e della tutela degli studenti. Non ritenendoci dunque rappresentati dal sindacato in questione e non concependo le reali motivazioni che dovrebbero spingerci a manifestare affinché le nostre voci non vadano perdute vogliamo dunque schierarci contro questa mobilitazione che ci sembra essere diventata uno strumento di lotta sociale di partiti mascherati, il cui unico fine è l'indottrinamento di determinate ideologie politiche alle nuove generazioni.